Sì, è molto bello, poi non so... Io sinceramente non me l'aspettavo così, pensavo più grande, però è bellissimo. Proprio così, mi aspettavo che fosse così. Non ha deluso le aspettative la visita a Telequattro, compiuta questa mattina dalla classe quinta della Scuola Elementare Paritaria del Sacro Cuore. 25 studenti, accompagnati da due insegnanti, hanno allegramente invaso la redazione, la regia e lo studio della nostra emittente, incuriositi dai vari aspetti del lavoro dietro le quinte necessario per realizzare una trasmissione a un telegiornale. Lo studio mi è piaciuto, ma anche la regia è bella, mi aspettavo così. Tutti hanno poi voluto cimentarsi nella lettura delle notizie davanti alle telecamere, dimostrando una sorprendente disinvoltura. Benvenuti a Telequattro! Vai, inizia dopo. Votografi, foto tutto quello che volete. Allora, ora do la linea ad Alice. Già dalla fine dello scorso anno la polizia locale aveva iniziato a sorvegliare con costante movimenti che avvenivano intorno al centro raccolta dei fiuti di via Carbonara. No, è stato bellissimo fare là, tutti ora stiamo guardando i nostri compagni di classe che fanno... A me è piaciuto molto tutti e due, perché uno ci siamo divertiti di là e l'altro è stato molto bello vedere le facce divertite dei nostri compagni. Secondo me c'erano certi che non dovevano ridere. È stato molto divertente, come ha detto la mia amica, ma soprattutto diverso da come si vede da casa, molto più piccolo lo studio di come sembra. E anche qui è stato molto divertente a vedere i nostri compagni, a fare finta di fare il servizio. Grazie.